La parola per comunicazione istituzionale, signor Presidente, perché proprio in questa sede qualche seduta fa lamentai da parte dell'amministrazione in generale la disconnessione che vi è col Consiglio Comunale rispetto ad alcune comunicazioni che arrivano prima ad altri organismi piuttosto che al Consiglio Comunale. E mi sono ricordato quella sera, ma a maggior ragione stasera mentre l'assessore Ardita parlava, che lei è assessore e vice sindaco, è assessore ai rapporti col Consiglio Comunale. Per cui io le chiedo, così come lei ha fatto stasera, ma dovrebbe completare con una divisione della relazione ognuno di noi, di essere più puntuale nelle comunicazioni con il Consiglio, perché se lo fa a Consiglio lo fa alla città di Acireale. E siccome io ritengo di rappresentare piuttosto che altri la città di Acireale, vorrei che le comunicazioni arrivassero prima a questo Consiglio Comunale e poi ad altri. Grazie.